Ciao ragazzi per il video di oggi andremo a fare una simulazione del mondiale ma con l'Italia Quindi se l'Italia fosse riuscita a superare i playoff battendo prima la Macedonia e poi il Portogallo Come si sarebbe piazzata in questo mondiale? Andiamo a scoprirlo in questo video Allora ragazzi eccoci qua nel menu Per fortuna il gioco ci dà la possibilità di inserire all'interno del mondiale anche le squadre che non si sono qualificate Tipo la nostra Italia Questa è la squadra andiamo un attimo a fare due modifiche alla formazione prima di tutto Facciamo la formazione che secondo me e secondo voi avrebbe affrontato questi mondiali Allora Bonucci, Bastoni, Spinazzola di Lorenzo secondo me la difesa è questa Donnarumma in Porta che tra l'altro ha 87 ok Centrocampo, Giorginio Varela Verratti vediamo un po' Io Locatelli l'avrei messo però al posto di chi lo metti Locatelli no non lo mettiamo E davanti Insigne, Immobile e Chiesa beh alla fine questa è la formazione degli europei E penso che più o meno sarebbe stata questa Chiesa recuperato sì mi sembra abbastanza una formazione valida Mettiamo Tonali in panchina al posto di Locatelli E per il resto un Emerson Palmieri al posto di Mancini che due difensioni centrali non ci servono Sì e anche Zanino lo metterei al posto di Scamacca No vabbè Zanino lasciamolo in tribuna Ok questa è la formazione dell'Italia Questa è la formazione che secondo me avrebbe affrontato questo mondiale Ora non ci resta che inserirla all'interno del mondiale Ovviamente al posto del Portogallo perché ipotizziamo Facciamo finta che l'Italia abbia superato il playoff contro il Portogallo in finale Allora come si fa? Torneo personalizzato Dobbiamo andare su sostituisci squadra Quindi togliamo il Portogallo mi spiace E andiamo sul squadre non qualificate e mettiamo la nostra Italia 5 stelle per l'Italia Selezioniamo la nostra nazionale azzurra Che come ci fa vedere qua sotto il gioco ha fatto 18 presenze al mondiale E l'ha vinto 4 volte 34, 38, 82 e 2006 Quello me lo ricordo raga avevo 10 anni Tra l'altro fatemi vedere per presenze quali squadre hanno più presenze dell'Italia Il Brasile 21 La Germania 19 E basta ragazzi Incredibile Cioè l'Italia sarebbe la terza squadra per presenze dopo il Brasile e la Germania Mamma mia incredibile Che squadra che c'è fuori da questo mondiale Che perdita per la FIFA e per il calcio mondiale Bene dunque detto ciò andiamo dentro con il torneo Ecco qua la sigla del mondiale Che purtroppo noi italiani vedremo da neutri Perché questo mondiale non ci saremo Però c'è un lato positivo Possiamo goderci il mondiale senza pressioni Possiamo scegliere per quale squadra tifare Per quale simpatizzare E ci può interessare relativamente se una squadra passa o non passa Quindi ci vivremo le partite molto meglio Secondo me Poi ovvio che il mondiale con l'Italia sarebbe stato un'altra cosa Però cerchiamo di trovare il lato positivo Dunque la squadra l'avete vista? Scrivetemi adesso raga nei commenti Secondo voi questa è Italia dove arriverà in questo mondiale Quindi scrivetemi Gironi Ottavi di finale Quarti di finale Semifinale Finale o vittoria Quindi scrivetemi un po' secondo voi Il vostro pronostico E alla fine del video io andrò a mettere il cuoricino a tutti quelli che hanno indovinato Mi raccomando ragazzi Non fate i furbi Scrivetelo adesso E non a fine video Quando vi siete già spoilerati tutto Anche perché se no non c'è più divertimento Andiamo dentro con la simulazione Allora il nostro girone Che è quello del Portogallo È con Ghana, Uruguay e Corea del Sud Quindi avremmo avuto un girone anche Non facilissimo Però neanche impossibile Poi il Ghana ci ricorda il 2006 Dove abbiamo vinto il mondiale Vi ricordo che avevamo il Ghana nei gironi E abbiamo vinto 2-0 Con gol di Pirlo E Iaquinta Mamma mia che ricordi Me lo ricordo come se fosse ieri Il girone si deve per forza passare Quindi iniziamo Prima partita contro il Ghana Le partite dei gironi le simuliamo velocemente 1-1 Ai Apri in signe Ma Wacaso Risponde Si mette subito male per l'Italia Vediamo l'Uruguay cosa ha fatto L'Uruguay ha vinto 2-0 con la Corea del Sud Quindi Uruguay che si candida al passaggio del turno Seconda partita è subito da dentro o fuori Perché siamo contro l'Uruguay Siamo a pari punti con il Ghana 1 Ma il Ghana incontra la Corea In caso di sconfitta raga Siamo praticamente fuori 3-2-1 Almeno un pareggio Uuuuh Addirittura di 3 punti Ancora in signe Ancora immobile Anzi Primo gol di immobile La coppia che arriva direttamente da Napoli Fa 2-1 3 punti contro l'Uruguay Fondamentali 4 punti l'Italia 3 punti l'Uruguay Ultima partita del girone contro la Corea del Sud Noi abbiamo 4 punti L'Uruguay 3 La Corea del Sud 3 Il Ghana 1 Allora ragazzi In caso di sconfitta siamo fuori Perché poi l'Uruguay vincerà col Ghana In caso di pareggio siamo passati In caso di vittoria siamo passati da primi Andiamo dentro con l'ultimo match di questo girone 3-2-1 Uuuuh Ancora immobile E il primo gol invece in questo mondiale Di bastoni Regalano il 2-0 All'Italia E qualificazione agli ottavi Da prima del girone Passa anche l'Uruguay Bene Fuori Corea del Sud e Ghana Uuuuh Andiamo a vedere intanto gli altri gironi E poi vediamo contro chi siamo agli ottavi Fase al gironi Allora noi siamo passati da primi insieme all'Uruguay Serbia e Brasile Uuuuh Brasile al secondo posto Quindi è una di quelle che possiamo beccare Non bene Croazia e Belgio Spagna e Costa Rica Fuori la Germania Francia e Danimarca Argentina e Polonia Stati Uniti e Galles Ecuador e Olanda Anche loro al secondo posto Quindi possiamo beccare una tra Olanda e Brasile Tra le altre Ottavi di finale 3-2-1 Mamma mia Italia e Brasile Oh no Oh no Poi c'è Spagna-Belgio Serbia-Uruguay Croazia-Costa Rica E tante altre che hanno già giocato Tra l'altro Ma noi siamo contro il Brasile Che disastro Ragazzi Crediamoci Dentro Con l'ottavo di finale Italia-Brasile Un grande classico Del calcio mondiale Ci siamo Tutto pronto Italia-Brasile Si gioca all'Usa il Stadium Loro non hanno Vinicius E la cosa mi piace Noi abbiamo la nostra formazione titolare Simulazione Integrale Let's go Ormai lo sapete Draghi in questa challenge dei mondiali Dagli ottavi in poi Simuliamo integralmente Perché sono partite decisive E possiamo uscire da un momento all'altro Occhio Occhio al Brasile Quanto spingono Donnarumma Meno male Insigne Che tra l'altro Ho detto che sarebbe stato titolare Ma non so eh ragazzi Uuu Dicevo non so Col fatto che andate a giocare in America Non so se Mr. Mancini L'avrebbe portato Anche se non è che c'è tanta alternativa Quindi Buu Tanto stiamo soffrendo tantissimo Il primo tempo Volge al termine 0-0 Un tiro a testa Possesso palla Però è per noi Dai crediamoci Penso che quella col Brasile Potrebbe essere la partita più complicata Cioè superata questa Poi il cammino dovrebbe essere in discesa Anche perché Più forte del Brasile C'è solo forse la Francia Sì che è sfortuna Però il Brasile è secondo E lo becchiamo E andiamo pure sotto Pacchetta Dai crediamoci Crediamoci per recuperarla Non abbiamo fatto ancora un'occasione Ma Ci crediamo Attenzione Ha sbagliato Ha sbagliato No Ma no Ma no 10 minuti alla fine Ci va un miracolo Verratti Dentro Ancora Ciro 87esimo Immobile Let's go L'aria ciuffa Ciro L'aria ciuffa E allora scocca il novantesimo Non c'è più tempo Anzi c'è No No Difendiamo Benissimo Tempi supplementari Che sofferenza sta partita Abbiamo pure fatto un'occasione in più del Brasile Ma il pareggio l'abbiamo trovato solo negli ultimi minuti E per fortuna che l'abbiamo trovato Dai 30 minuti Ci va un'altra impresa Di Lorenzo Di Lorenzo Dentro Immobile ancora Ciro Immobile 2 a 1 al 97esimo Let's go Ciro Si è sbloccato in nazionale Occhio occhio No No Neymar Neymar Non ci credo 2 a 2 Mi ero illuso Attenzione Chiesa Chiesa che non ha ancora brillato in questo mondiale Chiesa No Calci di rigore Ragazzi calci di rigore però Li voglio battere io Al primo già l'abbiamo sbagliato eh Vedo già che l'abbiamo sbagliato il primo Fantastico Secondo rigore Partiamo già sotto di uno Dai proviamo A vincerla Ah così Così Ci umilia così Neymar Fabinho E vabbè Ci umilia raga Ci umiliano Ci umiliano Doppio pallonetto Si Gigio Siamo ad oltranza Nicolo Barella sotto l'incrocio Ok Ultimo rigore Possiamo scrivere la storia A sinistra Let's go Abbiamo battuto il Brasile Italia i quarti di finale Col miracolo di Gigio Donnarumma La storia si ripete Scusate se sono entrato per i rigori raga ma Tanto E 50 e 50 pure se entro io E non è che cambia tanto Bisogna indovinare il lato quindi Volevo godermi questi calci di rigore contro il Brasile Andiamo a vedere contro chi siamo i quarti va Allora quarti di finale Ecco il tabellone Siamo contro la Croazia Poi c'è Belgio Serbia Galles Argentina Polonia Olanda Ok Vediamo lì dal tabellone tutti i quarti Ah hanno già giocato due partite Polonia batte Olanda Argentina batte Galles Ma anche Italia Croazia e Belgio Serbia Ok Dai Proviamo a scrivere la storia E arrivare in semifinale Italia Croazia Let's go 3 2 1 Let's go Dai abbiamo battuto il Brasile raga Non possiamo uscire con la Croazia Anche se la Croazia Ragazzi Kovacic Modric Perisic Brozo Non male È una bella squadretta Però l'Italia è superiore A parte che l'Italia è superiore A tipo 28 squadre su 32 di questo mondiale Credo quindi Penso che superiore all'Italia Ci siano Francia Brasile Argentina Portogallo E Boh Germania Spagna Germania e Spagna Se la giocano Secondo me con l'Italia 25esimo minuto Pericoloso la Croazia In avanti Fermiamoli Fermiamoli In qualche modo Fermiamoli Benissimo Spinazzola Salta tutti Spinazzola Impazzito Dentro Spinazzola Il tiro a giro L'ha fatto Un tiro a giro Lorenzo Insigne Sembra un film Sembra una realtà Ma Insigne Ha fatto L'1-0 Per l'Italia E l'ha fatto A modo suo Col tiro a giro Fine primo tempo Siamo avanti 1-0 Contro la Croazia Godo Dobbiamo chiuderla Chiudiamo questa pratica Per non rischiare di subire un altro gol E poi portarla ai supplementari Come è successo col Brasile Verratti Dentro Immobile Insigne È infuocato Lorenzo Insigne In questa partita Insigne Dentro Nicolo Barellino 2-0 E forse anche pratica Croazia Archiviata L'Italia che inizia a vedere La semifinale E non più col binocolo Non prendiamo un gol adesso Che poi riaprono tutto Immobile Scambia Chiesa Gli manca il gol in questo mondiale Immobile dentro Uh E arriva il 3-0 Ciro Immobile A lui non manca niente ragazzi Ma Immobile così nazionale Non si è mai visto Chissà che se avessimo fatto il mondiale Immobile Non avrebbe giocato così A parte che Immobile è pur infortunato Quindi Al mondiale non ci sarebbe stato Però Non stiamo considerando gli infortuni Anche perché Magari col mondiale Si sarebbe tenuto di più e altro Quindi non possiamo valutare Tutte le dinamiche di infortuni Detto ciò 3-0 con la Croazia E Italia in semifinale Oh regà Bene Zero tiri subiti eh Tanto Belgio e Serbia Fan 0-0 Ma passa il Belgio Poi supplementare 2-0 E allora andiamo a vedere un po' Contro chi siamo in semifinale Ragazzi Andiamo a vedere il tabellone Non so se si può vedere il tabellone O se dobbiamo vederlo da qua No dobbiamo vederlo da qua Semifinali Italia-Belgio E Argentina-Polonia L'Argentina tra l'altro Ha già vado tra Polonia Quindi chi vince tra Italia e Belgio Va in finalissima Contro l'Argentina Di Leo Messi Vorrei fare qualche cambio Ragazzi per questa partita Perché tipo Chiesa Non mi sta convincendo Non ha fatto ne un gol E mi sembra neanche un assist E poi mettiamo Tonali Per Verratti Dai proviamo così 3-2-1 90 minuti Ci separano Dalla finalissima Contro l'Argentina Mamma mia che finale Che sarebbe Italia-Argentina Poi lì mi sa che ne prendiamo 5-6 Però iniziamo ad arrivarci In finale Belgio è pericoloso Finale vi ricordo Uh Donnarumma subito Immobile Insigne Immobile Fai un tiragiro Dentro Immobile Che succede gol Che succede gol Liberardi Al suo debutto Da titolare in questo mondiale 1-0 Al diciannovesimo Difendiamo fino a fine primo tempo ragazzi Andare nello spogliatoio sul più 1 Sarebbe fondamentale Per potersi riorganizzare Sul più 2 ancora meglio però Insigne Immobile Immobile Tira E vabbè Troppo defilato E loro in porta non ne hanno una casa Hanno il miglior portiere del mondo In questo momento Courtois Attenzione però la palla rimane lì Ancora Courtois e allora a fine primo tempo Li taglia avanti 1-0 Dai 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 Ci siamo Spinazzola Spinazzola No Era gol praticamente raga Bastava saltare Vertonghen ed era gol Occhio allora che Fanno gol loro Fanno gol loro Chiudiamo 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 Mamma mia che chiusura Non so di chi ma va bene uguale Immobile in contropiede La velocità nella sua specialità Ma lo scambiano 1-2 Sì Immobile Poi no Non puoi sbagliare sto gol Immobile Sottoporta devi segnare Ciro Al 75 Attenzione però la palla rimane lì Ancora pericolosa Che ha preso Courtois Pensavo fosse gol Dobbiamo boxarci dietro Tipo su Fortnite Facciamoci un box Muro muro Tetto scala Gol Mimo Berardi doppietta Incredibile Stavo dicendo qualche caccata E Berardi Ha fatto gol 2-0 Doppietta di Berardi E Italia Praticamente In finale Assurdo raga comunque Intanto la partita È praticamente finita Col miracolo di Donnarumma Assurdo Che in questa simulazione L'Italia sia arrivata In finale E mo andiamo a giocarci Alla finale Magari la vinciamo anche Intanto qua abbiamo preso gol Da decetelare Dicevo magari la vinciamo anche Ma in ogni caso L'Italia è arrivata in finale Quindi che perdita Per la FIFA Per il movimento mondiale Per il movimento del calcio Non avere l'Italia A questa Coppa del Mondo Qatar 2022 Mamma mia Devono rivedere secondo me Il sistema di qualificazione Perché non è possibile Che arrivando secondi Nel girone Vai poi a giocarti Uno scontro diretto Tra l'altro Partita secca Neanche andate a ritorno Così Non lo so Non lo so E dunque ora Basta parlare ragazzi Perché si scende in campo Argentina Italia All'USA il Stadium È la finale Del mondiale In grafica ci sono Bonucci E Messi I due capitani Io ragazzi Sono italiano Quindi spero vincere l'Italia Però Raga Per me Messi deve vincere Questo mondiale Così Consacra la sua carriera Nessuno ha più nulla Da dire sul fatto Lui, Ronaldo, Maradona Se Messi vince Questo mondiale Ragazzi Nessuno parla più Fidatevi E io sono contento Perché per me Messi è il più forte Della storia Detto ciò raga Andiamo dentro Col match E questo Come sapete Essendo una finale Ce lo vediamo Integralmente Computer contro computer Ma che bella è sta grafica Ragazzi Con la Coppa del Mondo in mezzo Wow E prima della finale Raga Volevo farvi un po' vedere Come sono andati I nostri giocatori Statistiche squadre Prendiamo la nostra Italia Allora 5 gol Ciro Immobile 6 presenze 5 gol Insigne 3 gol Berardi 2 gol Bastoni 1 gol Per media voto Chi è il migliore? Per media voto Il migliore è Berardi Vabbè Perché ha fatto solo una presenza Quindi non conta Diciamo Immobile E per assist Giorginio 4 assist Bene Quindi Immobile per ora È il nostro miglior giocatore Vediamo la classifica Marcatori Suarez 5 gol Per esist 5 gol Immobile 5 gol E anche Depay e Kramaric Però in finale C'è l'Italia Quindi Immobile con un gol Vincerebbe In solitaria La classifica Marcatori Tutto pronto Per la finalissima Andiamo dentro Con il match Le due squadre Giocano tutte e due Con la maglia azzurra Tanto si dovrebbe riconoscere 3 2 1 Gioca partita Guardate che bella La coppa del mondo Pronta Ad essere alzata Una delle due squadre Speriamo in Italia Ma speriamo anche Messi Tifosi gremiti Fuori dallo stadio Che belle ste animazioni Ragazzi Lo stadio intanto In un secondo Si è riempito E allora Diamo il via Allo spettacolo Suonano gli anni Delle due squadre Ma noi Ciò non interessa Perché noi vogliamo goderci I 90 minuti Della finale Del mondiale Italia-Argentina E quindi Impostazioni Seleziona lato E andiamo a fare Fare tutto Al computer Il nostro destino Dipende dal computer Come si fa Di qua Di qua 3 2 1 Si Voglio cambiare Si Vai Divertiamoci Partito il match Immobile Per Giorginio E si inizia Lo Celso Messi Messi ancora da De Paul Barella E allora Immobile in contropiede Ma non è la sua specialità Come abbiamo già detto in precedenza Chiesa invece si E molto abile nei contropiedi Chiesa Lancia benissimo Immobile Immobile in vantaggio Lo stop a seguire Acugna Barella Il tiro di Barella Martínez Mamma mia Prima occasione del match E per l'Italia Con Barella Scarica dietro Verratti Il tiro Non è nelle sue corde Insigne Verratti Il tiro L'ho detto Il tiro Non è nelle sue corde Verratti mi ascolta E mi smentisce 1-0 per l'Italia In finale dei mondiali Contro l'Argentina Basta criticarle I giocatori ragazzi Avevo detto un secondo prima Che non era la sua specialità Il tiro Bene Gol con il piede L'Argentina però Vuole recuperare subito Acugna Atterrato in malissimo Modola di Lorenzo E qua si prende il cartellino giallo Giustissimo Di Maria Dentro l'Occelso L'Occelso Pericolosissimo Lautaro Martinez Donnarumma Come se fosse un derby Come se fosse Milan-Inter Ha giocato Nei derby Contro Lautaro Quando aveva la maglia del Milan E si ricorda bene Come parare i suoi tiri Tanto sa per scoccare Alla fine del primo tempo Il 45esimo La palla c'era l'Italia Un minuto di recupero E allora l'Italia Verosimilmente andrà Negli spogliatoi Sul risultato di 1-0 Arriva il doppio fischio Dell'arbitro 1-0 Fino al primo tempo L'Italia ha 45 minuti Da vincere un mondiale Al quale neanche parteciperà Pensate un po' Andiamo dentro col secondo tempo Dai voglio un gol di Messi In questo secondo tempo Così Per rendere un po' più bello il tutto Perché voglio un gol di Messi O di Messi O di Immobile Lo voglio Per due motivi differenti Intanto attenzione Era già munito di Lorenzo Che è successo Che è successo No eh No direttore No direttore No secondo giallo No secondo giallo Sì Secondo giallo L'Italia in 10 Di Lorenzo è espulso Follia Come fai a fare una scivolata del genere A palla lontana Mamma mia Errore gravissimo E il mister giustamente Toglie Immobile Mette Mancini Giorginio Barella Verratti Lancio bellissimo dall'altra parte Per Mancini Che sta facendo il terzino Ma qua è più ala che terzino Chiesa Chiesa Sbaglia tutto Chiesa Ma c'è un fallo C'è un fallo Attenzione Insignio Tira giro E arriva la rete Spinazzola Incredibile Incredibile Mi ha ascoltato Insigne Palo Salvata l'Argentina Ma poi c'è Spinazzola Più veloce di tutti Sulla ribattuta Rivediamo il gol Ed è però 2 a 0 Per l'Italia Mamma mia Insigne va E poi Spinazzola Al volo La parola non tocca Neanche per terra 2 a 0 Per gli azzurri E ora si mette male Per l'Argentina Ok che ha un uomo in più Però Mancano 30 minuti E i gol da recuperare Sono due Chiesa Dentro Verratti Per il 3 a 0 Eeeh Ve l'ho detto ragazzi Che il tiro non ce l'ha Verratti Non ce l'ha Sa fare tutto bene Ma non tirare in porta Quanto veloce Lautaro Ma non corre così Lautaro ragazzi Ma che è Ma c'ha cacciatore Sto Lautaro ragazzi Ma che è Aho Fermatelo Fermate Lautaro Di Maria Bonucci Il capitano Però ancora pericoso L'Argentina Che vuole riaprirla O adesso mai più per L'Albi Celeste Mai più Perché c'è Mancini Lautaro Acugna Bonucci Ragazzi ma che parola sta facendo Bonucci Sontuoso E allora Di bala Messi De Paul Ma mi sa che non c'è più tempo Per l'Argentina Messi Messi Un gol adesso E poi solo recupero Palalunga Spinazzola Due minuti di recupero E allora ragazzi Incredibile davvero Possiamo dirlo L'Italia Che non è qualificata Al mondiale Se avesse giocato Il mondiale Almeno per quanto riguarda Questa simulazione L'avrebbe vinto In finale Contro l'Argentina Per due O forse tre a zero Scopriamolo adesso No Salvataggio dell'Argentina Sull'ultima azione Quindi termina la partita Due a zero Per l'Italia Assurdo ragazzi Assurdo E allora diciamolo cinque volte Tutti insieme Siamo campioni del mondo 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 Ed ecco la coppa Con il successore Di Fabio Cannavaro Anche lui difensore centrale Anche lui capitano della nazionale Anche lui campione del mondo Bonucci Che alza al cielo La coppa Del mondo Di Qatar 2022 Io vi ringrazio per la visione Se ancora non l'avete fatto Un mi piace Un commento Un'iscrizione Qua sotto Da Venome è tutto Ci vediamo domani Con un prossimo video Bella Pazzesco Abbiamo vinto il mondiale Ma che Come è possibile Bile Grazie a tutti.